benvenuti a parole di salute prevenire e vivere siamo presso l'hotel esplanade di viareggio come potete constatare un hotel meraviglioso che ci ospita e ringrazio sia i titolari che tutto lo staff per tutta la collaborazione durante queste puntate questo format è un format televisivo di informazione scientifica fortissimamente voluto dai care farmacidi di viareggio con la collaborazione dell'associazione provinciale lucchese della lilt che sta per lega italiana per la lotta contro i tumori ed il patocinio del comune di viareggio un grazie alla produzione mc e in modo particolare a marco calamari allora siamo qui per parlarvi della delle patologie cardiovascolari come combatterle ecco perché ricordiamo che la lilt lega italiana ha come mission fondamentale quello della prevenzione e cercheremo in questo incontro con l'ausilio dei nostri gentili ospiti di darvi dei consigli di come eventualmente anticipare l'insorgere di queste problematiche e con noi il dottor Giancarlo Casolo che ricordiamo è direttore della struttura complessa di cardiologia dell'ospedale unico Versilia ed è coadiuvato dalla dottoressa Margherita Occhipinti diabetologa un astro nascente proprio in questo settore e collabora anche lei presso l'ospedale unico Versilia nel contesto di questo incontro avremo poi il piacere di presentare anche il dottor Giuseppe Cavirani medico condotto cosiddetto medico di famiglia che forma questa triade particolare ecco perché questa triade qual è lo scopo di queste tre persone vorrei subito proporlo in apertura al dottor Giancarlo Casolo allora intanto grazie Claudio grazie presidente presidente provinciale della lilt per questo graditissimo invito che ci permette di parlare della prevenzione delle malattie cardiovascolari e il motivo per cui siamo qui noi tre è che per combattere le malattie cardiovascolari bisogna fare prevenzione bisogna cominciare molto presto bisogna cominciare diciamo andando a controllare quelli che sono i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari che ormai sono piuttosto ben conosciuti si dividono fra fattori di rischio modificabili e altri non modificabili quelli non modificabili li conosciamo sono l'età al sesso invece quelli modificabili sono in larga parte controllabili se si comincia precocemente a lavorare per impedire che la malattia cardiovascolare si sviluppi e questo può essere fatto in team con l'aiuto del per esempio diabetologia e anche soprattutto del medico di famiglia dei medici condotti come detto prima con i quali possiamo appunto controllare questi fattori ecco quindi questa interazione con le persone che poi avrò il piacere di presentare lungo corso di questo appuntamento è legato proprio a un'interazione per la prevenzione legata appunto alle mattie le malattie cardiovascolari ma quali sono le malattie cardiovascolari vogliamo elencare certo per farceli capire che noi pensiamo subito all'infarto ma ce ne sono anche altri sì le malattie cardiovascolari vi ricordo sono ancora la principale causa di morte nel mondo occidentale occupano una larghissima fetta della pratica quotidiana sia negli ospedali che sul territorio e comprendono chiaramente l'infarto del mio cardio che quello più comune più conosciuto però comprendono anche le malattie valvolari le miocardiopatie e tutta una serie di condizioni che vanno sotto il nome di scompenso cardiaco ci mettiamo dentro anche altre condizioni molto comuni come le aritmie alcune aritmie tipo la fibrillazione atriale e tutte queste condizioni che poi direttamente o indirettamente possono portare ad altre complicanze per esempio la fibrillazione atriale può determinare l'ictus cerebrale ma l'ictus può essere causato anche dal cattivo controllo della pressione arteriosa può essere legato ad altre condizioni ecco tutto questo insieme costituisce le malattie cardiovascolari ecco esistono dei fattori di rischio per queste malattie e quali sono? sì i fattori di rischio che sono stati identificati ce ne sono alcuni assolutamente ormai sicuri e documentati uno è il diabete di questo di cui parleremo anche più avanti un altro è la pressione alta ecco perché è importante la collaborazione anche con la medicina col medico di famiglia che è quello che poi vede la maggior parte dei pazienti e identifica precocemente questo fattore di rischio il fumo di sigaretta, la dieta, il peso corporeo e naturalmente anche il colesterolo la colesterolemia che sta acquistando un valore sempre più importante una volta si parlava di fattori di rischio oggi addirittura è considerato un fattore causale valori elevati una volta oggi il livello limite è stato ulteriormente abbassato della colesterolemia è sicuramente uno dei fattori modificabili più importanti in due parole che cos'è lo scompenso cardiaco? lo scompenso cardiaco è una famiglia di condizioni nella quale l'organismo, il cuore sostanzialmente non riesce a rispondere alle necessità dell'organismo soprattutto durante le attività più importanti ma anche sforzi attività quotidiane cioè non si riesce a mantenere diciamo sufficiente efficacia dell'apparato cardiovascolare durante gli stimoli dell'attività quotidiana. Ecco questi campanelli d'allarme come si manifesta? ma uno dei primi sintomi è sicuramente un affanno che prima era non presente oppure era presente per sforzi importanti un affanno che diventa progressivamente più comparsa per sforzi sempre più leggeri è uno dei primi sintomi poi ovviamente ce ne sono altri come ad esempio la necessità la notte di mettere un cuscino in più per riposare oppure il gonfiore le caviglie sono tutti sintomi iniziali che qualcosa non va un polso più frequente e irregolare ecco tutti questi sono sintomi di un iniziale scompenso cardiaco. Mi sembra doveroso visto che siamo in epoca covid fare una domanda legata al virus che purtroppo coinvolge tutto il mondo quando leggiamo purtroppo la lista i numeri dei morti noi notiamo che magari sia sui giornali sia sugli organi di informazione si cita il fatto che siano persone anziane over 80 con altre patologie e molto spesso le altre patologie vengono correlate all'aspetto cardiaco e del diabete. C'è un connesso fra questo oppure è bene precisare alcune cose ma sicuramente poi magari anche Margherita potrà diciamo dare la sua opinione credo che in questo momento non ci sia una risposta univoca e certa diciamo che quello che è stato osservato è che c'è un'associazione fra una maggiore mortalità e una maggiore serie di complicanze nei pazienti più fragili e più portatori di malattie croniche fra queste malattie croniche c'è sicuramente ci sono le malattie cardiovascolari però è anche da dire che i dati che vengono raccolti qualche volta soffrono un pochino diciamo di semplificazioni per esempio spesso viene considerato un paziente fragile cardiopatico anche il semplice paziente con la pressione alta. Ora consideriamo che l'ipertensione ha una prevalenza intorno al 30-35% nei soggetti adulti quindi è una condizione estremamente comune come i capelli bianchi come gli occhiali da vicino ecco tutte queste cose qua probabilmente non andrebbero messe nel computo dei fattori favorenti la mortalità in chi ha la malattia da covid però sicuramente un paziente che è portatore di uno o più infarti che ha uno scompenso cardiaco importante se si ammala di covid chiaramente risponderà. Abbiamo parlato di diabete e a questo punto entra in gioco la dottoressa Margherita Occhi Pinti. Allora intanto in due parole che cos'è il diabete? Allora in due parole le do la definizione quella che si legge sui libri il diabete è una patologia cronica caratterizzata da elevati livelli di glucosio nel sangue. Ora nel darle la definizione riassumiamo una patologia ma che alla fine è un nome che viene di fatto attribuito a uno spettro di patologie è molto più complesso per cui nel parlare di diabete racchiudiamo la stessa definizione al diabete di tipo 1 che è un diabete a insurgenza giovanile spesso anche in età pediatrica e che ha una patogenesi molto diversa rispetto a quello che è invece quello che comunemente viene chiamato il diabete talvolta la diabete che è il diabete di tipo 2 che è una diciamo nella cui patogenesi sono presenti molteplici fattori che vanno dall'insulino resistenza al deficit di secrezione insulinica. Difatti la patologia poi si traduce con questi elevati livelli di glucosio nel sangue che possono intaccare tutti gli organi dell'organismo e quindi manifestarsi in una serie di patologie complicanze cosiddette associate che vanno da quelle che riguardano l'occhio piuttosto che il rene piuttosto che la circolazione periferica. Si può prevenire il diabete? Questa è una bellissima domanda a cui molti diciamo tentano di dare risposta e sicuramente anche in parte con risultati di successo. Quello che sappiamo è che in alcuni casi in questa condizione concorrono alcuni fattori esterni appunto modificabili che possono prevenire l'insurgenza della patologia. Uno per tutti il sovrappeso, l'obesità piuttosto che la sedentarietà sono fattori di rischio molto importante per lo sviluppo del diabete. Poterli trattare precocemente quindi prevenirli possono se non altro rallentare o posticipare l'insurgenza della patologia per cui un soggetto anche predisposto anche con una familiarità. La familiarità è molto importante sia nel diabete di tipo 1 ma ancora di più nel diabete di tipo 2 e quindi sicuramente è diciamo una spada di Damocle sulla testa dei discendenti però non è un fenomeno su cui non si può fare niente. Sicuramente alcuni stili di vita possono evitare la comparsa o la manifestazione specialmente la manifestazione precoce della patologia perché ribadisco una patologia cronica per cui nello sviluppo delle complicanze associate spesso incide il tempo per cui più la malattia è di lunga durata è più probabile sarà a vedere le complicanze. Quindi questo vale per tutte le patologie in buona sostanza. Allora terminiamo questa prima parte con un piccolo slogan quando c'è la salute c'è tutto. Riprendiamo qui dall'hotel Esplanade di Viareggio con parole di salute prevenire e vivere e allora parliamo di questo di questo argomento legato al diabete e vorrei ricoinvolgere in questo caso la dottoressa Margherita Occhipinti il diabete quale impatto ha sulle malattie cardiovascolari? Il diabete impegna molto sulle malattie cardiovascolari perché i soggetti diabetici hanno un rischio aumentato da almeno di due volte rispetto ai soggetti senza diabete di sviluppare nel corso della loro vita quelle che sono le patologie cardiovascolari e se andiamo a fare una fotografia questo è stato fatto in alcuni studi sia nazionali ma anche a livello internazionale di quello che è la prevalenza di una malattia cardiovascolare o di un alto rischio per lo sviluppo di una patologia cardiovascolare nella popolazione diabetica fotografata oggi vediamo che più o meno tutti gli studi si assestano intorno al 30 per cento quindi impatta in maniera importante su quello che è l'impegno dei colleghi cardiologi poi nella gestione delle patologie cardiovascolari. Ecco il diabete come altre malattie va a pari passo con l'età oppure insorge anche in giovane età? Quello che stiamo vedendo in maniera piuttosto preoccupante è che l'età di insorgenza e la patologia nel corso degli anni si sta accorciando quindi vediamo degli esordi di malattia anche in età un pochino più precoce rispetto a quello che si vedeva in passato quindi non soltanto la malattia aumenta e aumenta come prevalenza in maniera molto importante ma anche in un'età più precoce quindi allungando quella che è l'aspettativa di vita con diabete e quindi anche la manifestazione delle sue complicanze. Quest'oggi il titolo voglio ribadire e sottolineare è come si combattono le malattie cardiovascolari. Il dottor Casolo all'inizio del programma ha citato una serie di patologie legate proprio a questo aspetto ma io vorrei accentrare adesso l'argomento su questo muscolo il cuore. Il cuore come è ben noto ci accompagna finché viviamo e quindi va salvaguardato in tutte le sue in tutte le sue parti. La parte più fragile quella più importante è sicuramente il muscolo in sé per sé che è quello che riceve il sangue dalle arterie coronarie. Arterie coronarie che sono quelle che sono coinvolte quando c'è un infarto del miocardio per esempio. Ora per dare due numeri in Versilia per esempio nel nostro territorio su 150-170 mila abitanti noi osserviamo circa 5-600 infarti l'anno e di questi diciamo ormai per fortuna si muore sempre meno. La mortalità è scesa attualmente al 5% nel nostro territorio contro il 7% circa a livello regionale. Questo grazie diciamo a nuovi ritrovati scientifici? Questo è legato in parte ad aspetti diciamo così di accesso a determinati strumenti. Non possiamo dimenticare l'angioplastica primaria quella che viene fatta nel momento in cui viene riconosciuto nel primo momento l'infarto ma sicuramente diciamo un occhio come in tante altre condizioni va portato all'organizzazione cioè alla rete alla costruzione di una rete organizzativa che naturalmente nel caso del paziente più acuto riguarda soprattutto la chiamata del 118 che deve essere effettuata precocemente. A questo proposito ricordo che il paziente diabetico che costituisce il 30-40% ormai della popolazione dei pazienti infartuati è un paziente in cui il sintomo dolore spesso non è presente spesso il sintomo è un più che altro l'affanno, un senso di fastidio mentre si respira improvviso, inspiegabile. Ecco tutto questo dovrebbe promuovere la chiamata al 118. 118 che nella organizzazione della nostra azienda nella nord ovest e quindi anche a Via Reggio, noi siamo stati fra i primi ormai diversi anni fa a favorire questa rete, l'elettrocardiogramma eseguito a domicilio viene poi trasferito, trasmesso in cardiologia e se la diagnosi viene confermata il paziente viene trasferito immediatamente nel laboratorio di emodinamica. Questo ci consente ovviamente di intervenire molto rapidamente e questa rapidità di esecuzione è quella che poi si riflette sui risultati perché come dice ormai un mantra ben conosciuto il tempo è muscolo, cioè nel momento in cui compare il sintomo meno tempo si perde tanto maggiori sono i benefici in termini di sopravvivenza. E l'organizzazione della versita tutto sommato è una buona organizzazione in questo senso? Possiamo essere soddisfatti o no? Ovviamente come dire non posso che confermarlo, cerchiamo diciamo di spendere il massimo del tempo e dell'impegno in questo in questa condizione. Siamo tutti protesi a cercare di ottenere i risultati migliori. Questi risultati devo dire sono ottenuti grazie alla rete, rete che abbiamo costituito e poi ci sarà modo di parlarne anche con la medicina generale perché un sistema efficiente, un sistema in cui c'è una prevenzione efficace deve tener conto anche poi della presa in carico del paziente dopo le prime cure perché i nostri dati ci dicono anche che abbiamo un minor numero di ricoveri ripetuti sia dopo infarto ma anche dopo la diagnosi di scompenso cardiaco. Abbiamo dei dati piuttosto buoni a livello regionale che indicano soprattutto come in Versilia la rete funziona molto bene. Ecco quali sono i sintomi classici dell'infarto? Sintomi classici dell'infarto noi lo chiamiamo dolore in termini pratici. Il paziente riferisce un dolore che spesso è irradiato al braccio sinistro. Questo diciamo va molto bene per raccontare e colpire la fan diciamo dare un'immagine forte però nella realtà dei fatti qualunque disturbo si dice dall'ombelico in su può essere sospetto per questo. Diciamo che più frequentemente questo dolore in realtà è descritto come una pressione come un qualcosa che stringe qualcosa che brucia nella zona precordiale cioè quindi davanti al petto e che magari toglie un pochino il fiato si accompagna una sudorazione fredda. Ecco questo è un pochino più il classico dei sintomi però diciamo molto spesso qualche volta i sintomi sono subdoli e molto più importante in chi insorgono questi disturbi. Avere un paziente anziano diabetico iperteso magari che quindi ha il colesterolo alto fa poca attività fisica potrebbe come dire essere un discriminante fra un disturbo innocente ma se colpisce una persona di questo tipo dovrebbe far venire sospetto. In dieci secondi qualche consiglio? Il consiglio è se c'è il sospetto di avere una sintomatologia di tipo cardiaco di questo tipo chiamare sempre il 118. Benissimo adesso ci colleghiamo con il dottor Duilio Francesconi che oltre che essere un bravissimo chirurgo nell'ambito della senologia e non solo e ovviamente responsabile del reparto di senologia e di chirurgia oncologica del nostro ospedale Unico Versilia è anche amministratore del comune, un consigliere del comune di Viareggio e alla delega alla sanità e all'ambiente. Sentiamo il suo saluto. L'amministrazione comunale di Viareggio e il suo sindaco Giorgio del Ghingaro sono lieti di partecipare a questa importante iniziativa voluta dal iCare e con Pharmacity per cui le farmacie comunali dislocate sul territorio e la LILT che è la lega italiana lotta contro i tumori per cui che fa della prevenzione il suo cavallo di battaglia. Qui sono questa iniziativa che si va a snocciolare durante le prossime settimane con appuntamenti ripeto settimanali dove si andrà a parlare di prevenzione, dove si andrà a parlare di salute, dove si andrà a capire come il cittadino può agire sul proprio benessere. È per questo che l'amministrazione ha spinto per poter e ha voluto insieme, lo ripeto, alle proprie farmacie e ha preferito avere come collaboratore qui la principale associazione italiana che si occupa di tumori, di prevenzione dei tumori che è la LILT. Saranno argomenti importanti, argomenti che ci diranno come poter, ripeto, agire sulla nostra salute e in tutti i giorni con piccoli accoglimenti e questo ci farà sicuramente arrivare a un benessere migliore nel prossimo futuro. Grazie al dottor Giulio Francesconi, torniamo al diabete e parliamo con dottoressa Margherita Occhipinti. Quali sono i passi da gigante che in questo settore sono stati fatti nell'aspetto farmacologico? Finalmente all'orizzonte iniziano a facciarsi delle nuove possibilità terapeutiche che hanno dimostrato non soltanto di ridurre la glicemia che è un po' diciamo l'obiettivo della terapia diabetologica da sempre ma che hanno dimostrato poter ridurre in maniera significativa quindi in maniera impattante quello che è l'incidenza e la recidiva di alcune malattie cardiovascolari. Questo apre un nuovo orizzonte e per la prima volta ci permette di poter scegliere il farmaco non soltanto per abbassare la glicemia ma per cambiare la prognosi dei nostri pazienti nel tempo. Bene, ci fermiamo per qualche istante per la pubblicità e poi torneremo a parlare di come combattere le patologie cardiovascolari. Ben ritrovati, siamo sempre qui all'hotel Esperanza di Viareggio con parole di salute e per venire e vivere questa nuova trasmissione di medicina e soprattutto informazione medica oggi parliamo di come combattere le patologie cardiovascolari con il dottor Giancarlo Casolo e con la dottoressa Margherita Occhipinti. Torniamo alla dottoressa Occhipinti, come il diabete, ecco parliamo purtroppo come si muore il diabete. La principale causa di morte del paziente diabetico è sempre di natura cardiovascolare così come la principale causa di ricovero di questi pazienti è legata principalmente a quello che è lo scompenso cardiaco per cui come vedete ci ritroviamo a dover parlare di un unicum fra quando parliamo di cuore e quando parliamo di diabete. È una grande correlazione e quindi anche l'aspetto terapeutico non può prescindere da quella che è una collaborazione fra le varie specialistiche, ancora di più con i medici di medicina generale ma sicuramente un tempo si diceva il diabete è una malattia cardiovascolare. Beh, probabilmente possiamo anche definirla così. Torniamo a parlare naturalmente di prevenzione. Come si può prevenire in genere la malattia cardiovascolare? Dottor Casol. La malattia cardiovascolare sappiamo che va combattuta fin dall'infanzia attraverso un'alimentazione sana, attraverso una sana quantità di attività fisica, attraverso il controllo del peso corporeo, attraverso il monitoraggio della pressione arteriosa, attraverso una riduzione dei valori di colesterolemia. Esistono forme familiari di pipercolesterolemia ma altre volte sono anche frutto di una dieta errata. È ormai dimostrato che non si ragiona più soltanto in termini di fattori di rischio ma anche di quanti anni uno è stato esposto a quei fattori di rischio. Cioè se l'ipertensione per esempio comincia a 20 anni non è la stessa cosa se questa appare a 50 anni. Quindi si tratta di cercare di lavorare per mantenere quello che si chiamano fattori di vita, fattori di salute ideali molto precocemente nella vita. Poi ci sono patologie che addirittura sconvolgono come la morte di giocatori, di personaggi ultrasani, con grandi attività sportiva, agonistica e ahimè ci sono dei casi che sono anche recenti come il giocatore del Livorno tanto per intenderci. Ecco questo si può riuscire a prevenire? A che livello sono gli studi attuali? Diciamo intanto che la legislazione italiana è una delle più attente a questo tipo di situazione. Le linee guida del COCIS e la medicina sportiva fanno un enorme lavoro prima di dare l'idoneità sportiva. Altri paesi, ad esempio gli Stati Uniti, sono estremamente meno attenti. Diciamo che è difficile cercare un ago in un pagliaio. Si tratta di condizioni sicuramente non comuni, in soggetti sostanzialmente molto sani perché fanno spesso attività sportiva a livello molto alto, però è chiaro che anche in questi casi può non essere facile trovare degli indizi. Probabilmente ci aiuterà nel futuro anche gli studi di genetica, però oggi abbiamo a disposizione strumentazioni e metodi di indagine estremamente sofisticati. È molto difficile che scappi qualche cosa oggi. Allora io vorrei salutare la dottoressa Margherita Occhipinti perché a qualche istante sarà, come si dice, sostituita a dottor Giuseppe Cavinani che tra l'altro lavora comunque insieme a voi, però vorrei che lei lanciasse un messaggio, un messaggio a tutti coloro che soffrono di diabete ma a coloro che ancora fortunatamente non soffrono e quali sono i consigli per prevenire questa malattia in virtù dei suoi studi. Allora, il primo messaggio è che dobbiamo volerci bene, prendersi cura di noi e questo vuol dire stare attenti a cosa mangiamo, a quanto ci muoviamo, a se fumiamo, a come ci comportiamo, a quanto ci prendiamo cura di noi. La seconda cosa è che se spesso abbiamo uno stile di vita che non è adeguato e magari però abbiamo una familiarità per il diabete, non aspettiamo i sintomi per andare a ricercare la patologia, ma cerchiamola precocemente, quindi cerchiamo di domandarci se c'è il diabete, non lo mettiamo in un cassetto e se poi abbiamo il diabete, cerchiamo di controllarlo secondo quelle che sono le indicazioni di tutti gli specialisti che incontrerete, del vostro medico di medicina generale, perché il fatto di non avere sintomi non significa di avere un diabete in buon controllo. Tra l'altro oggi si può constatare se diciamo c'è qualche pericolo di avere il diabete anche con un semplice spillo su una semplice analisi che si può fare anche in farmacia fra l'altro. Sì, sicuramente esistono appunto anche dei test che possono darci un livello di glicemia, non sono spesso utilizzati soltanto a fine della diagnosi, ma come metodica di screening possono anche in qualche modo essere impiegati, ma sicuramente quello che fa diagnosi è un livello di sangue e questo nella vita qualche volta lo faremo, però bisogna chiedercelo. Benissimo, allora grazie ancora alla dottoressa Margherita Occhiminti, rimanga lì per il momento perché adesso ci colleghiamo invece con Farmacity di Torre del Lago, più esattamente con Chiara Gallo e Donatella Giorgio che ci parleranno di una bella iniziativa di Farmacity di Torre del Lago. Andiamo ad ascoltare. Grazie Claudio, il progetto di cardioprotezione iCare Viareggio Cuore è stato fortemente voluto e sostenuto da iCare Farmacity in collaborazione con il comune di Viareggio per preservare la salute dei propri cittadini e ha permesso l'installazione all'esterno di ciascuna farmacia e parafarmacia Farmacity di una postazione DAE, ovvero di un defibrillatore automatizzato esterno, uno strumento salvavita, semplice ed affidabile, in caso di arresto cardiaco, pronto all'uso e progettato anche per soccorritori non professionisti. Sono Donatella Giorgio, farmacista Farmacity. Nelle nostre farmacie potrete esuffruire di consigli e controlli, quali misurazione della pressione arteriosa, oltre pressorio e CG rifertato in telemedicina, un metodo utile e pratico per prevenire, diagnosticare e monitorare le malattie cardiovascolari a distanza. Un'esigenza è divenuta sempre più stringente in questo periodo. La squadra Farmacity si impegna ogni giorno per rendere la prevenzione un qualcosa di semplicemente possibile. Dottor Casono, una bella iniziativa quella di Farmacity di Sole del Lago, vero? Assolutamente, anche perché assolutamente tutto il mondo si sta muovendo nella direzione della trasmissione delle informazioni sanitarie, quel mondo cosiddetto di sanità digitale, per cui questo è veramente qualcosa che fa elevare notevolmente il livello di assistenza. È una rete di sicurezza sicuramente importante per i pazienti e un'opportunità veramente molto e molto positiva. Visto che si è parlato di infarto a livello di chilometraggio poi da Torre del Lago all'ospedale Unico Versino c'è qualche chilometro, quindi è bene anche organizzarsi in questo senso. Allora vado a presentare il dottor Giuseppe Cavirani, grazie di essere con noi, ricordiamolo referente AFIT che sta per aggregazione funzionale territoriale e responsabile della Casa della Salute di Querceta. Che cos'è la sanità di iniziativa? Le cose negli ultimi anni sono cambiate. La regione toscana qualche anno fa ha messo in funzione una nuova maniera di fare la medicina territoriale che noi chiedevamo da tanto tempo. Una volta il medico aspettava nel suo ambulatorio che i pazienti arrivassero e ascoltava i loro bisogni. Adesso invece la nostra parte di pazienti, quelli che sono affetti di quattro malattie di tipo cronico, tra cui lo scompenso cardiaco, il diabete, la BPCO, la blocopatia cronico-ostruttiva e l'ictus o il TIA, vengono inseriti in un catalogo e vengono chiamati attivamente. Cioè non aspettiamo che loro vengano da noi, ma siamo noi che chiamiamo loro. Naturalmente non possiamo da solo fare questa funzione e siamo aiutati da dei collaboratori e in particolare abbiamo l'infermiere per la sanità di iniziativa o due infermieri per la sanità di iniziativa e un operatore sociosanitario. È logico che poi nel caso di particolari bisogni o particolari gravità possiamo anche usufruire dei servizi territoriali infermieristici dell'ASLA. Questo ha cambiato molto la relazione con il pubblico, anche se ultimamente a causa del Covid la sanità di iniziativa ha avuto una battuta d'arresto e siamo stati costretti a ridurre il nostro impegno. Comunque per quanto riguarda due realtà, la Casa della Salute di Querceta e quella di Pietrasanta, l'attività ha continuato ad essere in funzione, anche perché noi abbiamo personale nostro e non solo dell'USL. La mia non è una recriminazione contro l'USL, capitami bene, è che per particolari situazioni territoriali abbiamo messo su un servizio in una maniera diversa. Mi permetta, visto che qui ci sono tanti campanili, perché la Versilia è un campanile, perché ogni tanto si dice sempre la Versilia e Via Reggio e coloro che abitano nella zona di Forte dei Marmi e di Pietrasanta si scandalizzano perché non è la Versilia storica. Ma io non voglio entrare in questi aspetti territoriali, ma vorrei chiederle, questa forma organizzativa è legata solamente al territorio vostro e in tutta la Versilia? Tutta la Versilia ci sono... Viareggio, una Pietrasanta, una a Massarosa, una a Camaiore e una Forte dei Marmi e Seravezza stazione. Dottor Casolo, mi sembra anche sotto il profilo organizzativo una bella cosa. Assolutamente sì, anche perché grazie a questa rete noi riusciamo a fare prevenzione primaria, prima che la malattia si verifichi. Secondaria, quando la malattia c'è già stata o è già in atto, riusciamo a stendere una rete efficace con un passaggio di testimoni molto stretto, con un coordinamento assolutamente condiviso. Bene, ho un po' di ottimismo, ecco non manca mai e sapere anche che ci sono queste forme organizzative che determinano anche una certa eccellenza del nostro territorio è bene sottolinearla. Ci fermiamo per qualche istante e poi l'ultima parte di come combattere le patologie cardiovascolari. Quando c'è la salute c'è tutto. Ed eccoci qua nuovamente all'Hotel Esplanade in questa quarta ed ultima parte del nostro programma Parole di Salute per Venire e Vivere, organizzato, ricordiamolo, sotto legge di iCare Pharmacity di Viareggio, patrocinato dall'amministrazione comunale di Viareggio e sostenuto dalla Lilt, Lega Italiana, raccolta contro i tumori, l'associazione provinciale lucchese. Allora, torniamo a parlare del medico di famiglia, medico condotto. Come devo definirla esattamente, dottor Giuseppe Cavirani? Medico di medicina generale. Ho utilizzato comunque dei termini che solitamente sia nei giornali sia negli orghi di informazione vengono ricordati. Allora, vorrei che lei sottolineasse un attimino questa esperienza. Come si ricollega il vostro lavoro con quello del reparto di cardiologia? Io penso che sia fondamentale il rapporto con le altre figure professionali specialistiche e con l'ospedale, anche perché i pazienti hanno più di un bisogno e non tutti possono risolvere il bisogno dei pazienti che hanno. In questi anni noi abbiamo costruito con la cardiologia un rapporto ottimo, direi stupendo, ed è stato foriero anche di successi, sia dal punto dell'assistenza dei pazienti, anche dal punto di vista scientifico. Per quanto riguarda, dal punto di vista scientifico, anche se non è il più importante, abbiamo avuto occasione in passato di fare alcune pubblicazioni sulla fibrillazione atriale e in futuro stiamo lavorando per fare alcune pubblicazioni con la dottoressa Occhipinti e la cardiologia sulla patologia del diabete. Ecco, vorrei sapere, dottore, quali sono gli strumenti e quali gli obiettivi? Gli strumenti possono essere più di uno e vanno visti da diversi punti di vista. Sicuramente il medico di famiglia di adesso non è il medico di una volta che ha solo il fonendoscopio, il suo odorato, la sua vista e il suo dito per fare diagnosi dei pazienti. È logico che adesso non si può fare a meno di strumenti e della collaborazione di altri professionisti e di altri collaboratori. Per esempio, l'istituzione delle case della salute per questo è stata molto utile. Bisogna tenere presente che, per esempio, nella casa della salute, oltre ad essere più medici che possono mettere il loro contributo, c'è la presenza degli infermieri, degli operatori soci sanitari, dei segretari, che possono aiutare, di volontariato, che possono aiutare nella gestione delle patologie. Poi c'è anche l'aiuto dei servizi domiciliari che fornisce l'uso e quei servizi distrittuali. Le patologie non sono quelle che vengono descritte dai libri, cioè sì, per alcuni aspetti sì, però sono state descritte su quello che afferisce all'ospedale. L'ospedale vede le malattie in un determinato punto della loro storia e vedono con determinate caratteristiche. Intanto non vedono quasi mai l'inizio e tante volte non vedono nemmeno la fine, perché sappiamo bene che adesso il fine vita è una riappropriazione probabilmente della medicina generale, come giustamente dovrebbe essere. Uno deve poter morire nel suo letto, non deve morire all'ospedale se è possibile. Questo è un passaggio molto molto importante che sta sottolineando. Per quanto riguarda la prevenzione, per esempio cardiovascolare, possono essere messe in atto delle modalità particolari. Per esempio la fibrillazione atriale, che è una malattia che ha un'incidenza, quando io ho cominciato a occuparmi specialmente per quanto riguarda la cardiologia di fibrillazione atriale, aveva un'incidenza di 1,7-1,8%, adesso sicuramente è un data sodato che è intorno al 4%, però io penso che toccherà anche il 5-6% perché le cose si trovano quando le cerchiamo. Lo stesso vale per il diabete. La letteratura dice che il diabete incide per un 6%, la prevenzione di malattia è intorno al 6,5%, probabilmente intorno al 9-10%, perché se noi guardiamo i dati delle persone che afferiscono alla sanità d'iniziativa nelle nostre case della salute o negli ambulatori dei medici di famiglia che lavorano in modo singolo, sappiamo tutti benissimo che i pazienti che ce l'hanno sono intorno al 9-10%. Per esempio, una possibilità di fare uno screening nelle patologie, per esempio la fibrillazione atriale, noi quando facciamo le vaccinazioni per l'influenza abbiamo un sistema per cui mettiamo una specie di bacchetta in mano ai pazienti, fa un elettrocardiogramma di un minuto e si accende una luce rossa o verde. Se è verde vuol dire che c'è un ritmo normale, la fibrillazione non ce l'ha di sicuro. In alcuni pazienti invece viene fuori una luce rossa, vuol dire che c'è una ritmia cardiaca. Sono frequenti i farsi positivi, ma tante volte ci inzecca positivi. Quindi è un bel campanello d'allarme. In quella maniera lì questo bastoncino viene inserito nel computer, il medico inizia un percorso, dà un'occhiata, dice sì ce l'ha. Se poi c'è qualche dubbio fa di meglio, scannerizza l'esame, rompe le scatole al dottor Casolo e gli dice mi guardi questo elettrocardiogramma che c'è un dubbio e ti dice no, no, c'è proprio la fibrillazione. È un percorso interessante. Grazie dottor Cavilani. Io vorrei tornare a parlare con il dottor Casolo per sapere cosa ne pensa di questa esperienza. Io credo che il compito di una cardiologia come la nostra, una cardiologia inserita nel suo territorio, sia proprio quello di occuparsi della salute cardiovascolare dall'inizio della vita fino alla fine della vita. E in questo senso noi, con una stretta collaborazione con il territorio in particolare e poi ovviamente anche con gli altri specialisti, facciamo quello che andrebbe fatto. Cioè chiudiamo il cerchio, chiudiamo il cerchio di salute. E non possiamo curare bene la gente se non ne conosciamo l'inizio e non ne conosciamo la fine, come diceva il dottor Cavilani. Io ho imparato moltissimo dalla collaborazione con la medicina del territorio e dal lavoro che ho fatto con la Casa della Salute di Querceta perché attraverso il contatto con loro ho conosciuto, ho imparato qual è la prevalenza delle malattie e ho potuto capire quali sono le necessità una volta che il paziente esce dall'ospedale. Quindi la figura del medico, il riparto, il termine arcaico, condotto di famiglia, è una figura estremamente essenziale? Io credo che senza la medicina generale la sanità pubblica non possa reggere. Questo io credo che sia un ruolo fondamentale. Chiaramente è necessario che ci sia un'evoluzione della medicina anche territoriale. Faccio un esempio. Noi oggi cominciamo a ricevere dai pazienti la copia di quello che viene registrato sugli smartwatch. Loro comprano strumenti e poi ci chiedono qualcosa in termini di salute. Ecco, noi dobbiamo evolverci, dobbiamo imparare a conoscere questi strumenti, la medicina generale lo sta facendo e quindi insieme portare avanti la medicina del prossimo futuro alla popolazione. Allora, noi ci avviamo al termine di questo piacevole incontro. Ribadisco il titolo di questo appuntamento, come combattere le patologie cardiovascolari. Beh, io vorrei lanciare proprio a voi la conclusione, prima al dottor Giuseppe Cavirani e poi al dottor Giancarlo Casolo. Qual è un consiglio o dei consigli in un minuto, guardando le telecamere ovviamente, da rivolgere ai propri pazienti per prevenire questo aspetto legato alle malattie cardiovascolari? La parola al dottor Giuseppe Cavirani. Prego. Ma la prevenzione si combatte con il mangiare bene, vivere bene, muoversi e non avere paura di chiedere. Il medico di famiglia tante volte può sembrare un po' distante, può sembrare un po' berato, perché ha tanti compiti, però è sicuramente vicino a voi e vi posso garantire che continuiamo a piangere per i nostri pazienti quando succede qualcosa. Non ci facciamo vedere, perché non è giusto farsi vedere. Però vi garantisco che qualche volta quando si sale in macchina vengono le lacrime agli occhi di quello che abbiamo visto. Grazie. Allora, sentiamo i consigli finali del dottor Giancarlo Casolo. Prego. La salute in generale e la salute cardiovascolare in particolare è come la democrazia. La diamo per scontata, ma così non è. Va curata ogni giorno, fin dall'inizio della vita. Bisogna adattarsi o comunque collegarsi a quello che il sistema ci consente. Il sistema oggi è costituito da varie componenti. Questi componenti vedono la medicina generale, gli ospedali, ma anche il volontariato, le farmacie, naturalmente. Ognuno può fare la sua parte. Dobbiamo combattere tutti insieme affinché il sistema consenta sempre di tenere sotto controllo la nostra salute e dobbiamo prendercene cura con molta attenzione, perché ne abbiamo soltanto una di salute. Bene. Io ringrazio i nostri gentili ospiti. Siamo arrivati alla conclusione. Avremo modo in maniera, nelle prossime puntate, anche di parlare di altre patologie. Voglio ricordare la dermatologia, la neurologia. Parleremo di Covid, fra l'altro con i medici dell'ospedale unico del Sira, che sono stati in prima linea, fra cui il dottor Tacola, tanto per citarvene qualcuno, come il responsabile del pronto soccorso, il dottor Pepe, e tanti altri. Questi sono alcuni degli appuntamenti più importanti. Noi vi ringraziamo della vostra gentile attenzione. Ringrazio anche la dottoressa Magrita Occhipinti, che ci ha parlato di diabete. Non mi resta che ringraziarvi e augurarvi buon proseguimento.